Mentre la Corte Costituzionale blocca il riordino delle province, reggia al vaglio della consulta la riforma della geografia giudiziaria. Finiscono così in un secco no le istanze sollevate da molti tribunali contro la loro soppressione, anche quelle del Tribunale di Montepulciano, che ormai da tempo ha intrapreso una strenua battaglia contro la chiusura. Amaro sarcasmo nelle parole del primo cittadino poliziano Andrea Rossi, che ricorda come la chiusura del Tribunale locale non porterà alcun beneficio né in termini economici né tantomeno in termini di qualità del servizio. L'operazione è riuscita paziente morto, nel senso che il paziente in questo caso è ancora una volta il cittadino. Il cittadino che si vede allontanare dal territorio un servizio, si vede peggiorare i tempi di attesa. Ricordo che a Montepulciano non c'erano processi penali che naturalmente sono andati in prescrizione in questi ultimi dieci anni, che significa che la struttura dava risposte importanti, ma dava allo stesso tempo una garanzia di sicurezza a tutto il territorio, perché la certezza della pena o perlomeno della condanna forse disincentivava anche qualche reato importante su questo territorio. I grandi oneri che il Tribunale di Siena dovrà sostenere a causa dell'accorpamento, stimati in oltre 800 mila euro annui laddove a Montepulciano il Tribunale ne costava meno della metà, hanno spinto il Presidente del Tribunale di Siena a chiedere una deroga affinché nella città del nobile rimangano per tre o cinque anni archivi ed altre funzioni marginali. Costi accessori che il Comune di Montepulciano non intende accollarsi qualora la vera attività giudiziaria venisse svolta altrove e annuncia a partire dalla data della chiusura del Tribunale la disdetta delle convenzioni che garantivano la piena funzionalità degli uffici e le relative utenze. I soldi risparmiati, commenta Rossi, li investiremo nello sviluppo del territorio. Questo semplicemente per dire non che non interessa la giustizia a Montepulciano, ma semplicemente per dire che la riforma, o perlomeno questo tentativo di riforma, è una riforma assolutamente ingiusta e che non raggiunge l'obiettivo. Probabilmente è stata una risposta a dei poteri forti, non lo so, però ritengo che non ha raggiunto senz'altro l'obiettivo di rendere più efficiente la macchina della giustizia.